Sant'Antioco area inadempiente così il sindaco Locci interviene sulla sicurezza e ristrutturazione delle palazzine di via Baden-Powell occorrono interventi urgenti e necessari gratuito patrocinio un istituto riconosciuto dalla Costituzione, lo strumento per i cittadini non abbienti che riconosce a tutti indistintamente il diritto di difesa Furti di rame nell'area industriale di Portovesme, nella notte tra domenica e lunedì è accaduto l'ultimo ad accorgersi del fatto sono state le guardie giurate Riapre a Carbonia il parcheggio multipiano, dopo due anni e mezzo la struttura di via Verona sta per essere restituita alla città, con 130 parcheggi disponibili domani un incontro pubblico sul tema Buon martedì 22 maggio 2018 a tutti i telespettatori ben ritrovati per questa nuova edizione del nostro TG40 L'area, azienda regionale per l'edilizia abitativa, è inadempiente interviene così il sindaco di Sant'Antioco Ignazio Locci per chiedere interventi decisi e definitivi in merito alla sicurezza e la ristrutturazione delle palazzine di via Baden-Powell Nonostante le numerose sollecitazioni, lamenta Locci, ancora tutto tace Vi proponiamo l'intervista di Francesca Rius Intanto questo complesso di edilizia residenziale pubblica di proprietà di area necessita di urgentissimi lavori di ristrutturazione, consolidamento e messa in sicurezza Cioè qui è in gioco e in discussione proprio l'incolumità di chi abita in questi appartamenti dal 2012 che esiste un progetto di intervento delle qualificazioni in sei anni non sono stati in grado, l'area non è stata in grado di mettere in opera questo progetto e non è stata nemmeno in grado di garantire la normale manutenzione di questi immobili Sappiamo bene che non è una situazione solo del comune di Sant'Antioco ma di tanti altri comuni, diciamo di quello che era il distretto di Carbonia Questa è la dimostrazione che avreste un stato su Cagliadi esclusivamente il centro decisionale di area non garantisce una buona funzione dei servizi alle diritte residenziali pubbliche e quindi in particolare alle persone che vi abitano e che hanno diritto di vivere in case decenti quindi abbiamo sollecitato con una nota e con dei sopralluoghi, con delle perizie anche un intervento immediato vi ringraziamo anche per questo spazio e ci consentite di far vivare anche più forte la nostra voce Parliamo oggi del patrocinio gratuito, ovvero di un istituto riconosciuto dall'articolo 24 della Costituzione italiana a tutti i cittadini non abbienti al fine di rendere effettivo il diritto di difesa disciplinato dal medesimo articolo Ai nostri microfoni il segretario territoriale della Di Consum Giancarlo Cancedda Bene, oggi parliamo di gratuito patrocinio come ben sappiamo siamo in una zona dove c'è tanta crisi vuoi disoccupazione, cassa integrazione, insomma mancanza di lavoro in assoluto tant'è che i nostri giovani ci stanno abbandonando ma il discorso che vorremmo fare oggi sul gratuito patrocinio è che purtroppo tante famiglie in caso di necessità sia per agire o per tutelarsi non hanno il reddito sufficiente per pagare le spese ai giudizi, legale e quant'altro la legge prevede il gratuito patrocinio per i nuclei familiari, per le persone con un reddito al di sotto degli 11.528 euro ovviamente il reddito è quello del nucleo familiare il reddito imponibile del nucleo familiare tutti coloro che hanno necessità di un'assistenza legale quindi non hanno un reddito sufficiente possono rivolgersi al legale di fiducia, al legale di conoscenza che per loro farà le pratiche e verificherà se hanno diritto o meno e se il reddito è inferiore, ripeto, agli 11.528 euro avranno la possibilità del gratuito patrocinio si dovrà fare una posta domanda all'ordine degli avvocati del tribunale dalla propria residenza, in questo caso di Cagliari ma al tutto questo ci penseranno i legali l'informazione appunto che si voleva dare che chi ha un reddito, ripeto, inferiore agli 11.528 euro un reddito imponibile il reddito è composto dai vari redditi del nucleo familiare quindi se consorte o figli hanno un reddito concorrono alla formazione del reddito imponibile tutti, quindi in questo caso lo Stato garantisce a tutti il diritto della difesa o di agire per tutelare i propri interessi Continuano i furti di rame nell'area industriale di Portovesme l'ultimo è accaduto nella notte tra domenica e lunedì e ad accorgersi del fatto sono stati gli uomini della vigilanza vi proponiamo il servizio Ennesimo furto di rame nell'area industriale di Portovesme il fatto pare sia accaduto nella notte tra domenica e lunedì e ad accorgersi del fatto sono stati gli uomini della vigilanza nel consueto giro di controllo è stata ritrovata aperta una porta di un vecchio capannone all'interno chiari i segni del furto del rame dei malviventi nessuna traccia agli uomini della vigilanza non è rimasto altro da fare che avvisare le forze dell'ordine come detto in apertura non è la prima volta che la zona viene battuta dai cercatori dell'oro rosso tenuto a conto dei prezzi del rame sempre più alti è in pubblicazione il bando per il rinnovo del patrimonio vitivinicolo regionale l'Europa mette a disposizione dei viticoltori sardi 4,5 milioni di euro vediamo il servizio di Guido Cadoni ritorna anche quest'anno il bando europeo per il rinnovo del patrimonio vitivinicolo regionale l'obiettivo è la ristrutturazione dei filari o la loro riconversione a produzioni più apprezzate dai consumatori e l'OCM, l'organizzazione comune del mercato che ha incaricato il ministero delle politiche agricole di smistare e gestire i fondi ha destinato alla Sardegna a 4,5 milioni di euro una produzione vitivinicola in crescita attraverso una strategia commerciale incentrata su modernità sull'alta tecnologia e sulla rivalutazione di vitigni Regina in Sardegna è la zona del parte olla che da sola tiene testa regioni come il Veneto con le sue circa 20 cantine in un territorio occupato da pochi comuni una produzione che sempre di meno rimane in Sardegna ma va a diffondersi in territori un tempo impensabili come Russia e Cina si ricorda ai viticoltori che le adesioni al bando 2018 saranno accettabili entro il 30 giugno è slittata ancora e adatta da stabilire l'assemblea regionale del PD in programma in teoria per la giornata di ieri ad Abbasanta causa questa volta la febbre del segretario Giuseppe Luigi Cucca l'assemblea era già stata rinviata dall'11 maggio a causa della convocazione di quella nazionale per il 19 all'ordine del giorno si sarebbero dovuti discutere tre punti analisi, riflessione e prospettive sul voto del 4 marzo agenda programmatica e alleanze per le regionali del 2019 gli ordini del giorno presentati all'assemblea di Tramazza ovvero la proposta di indizione di un referendum interno e la richiesta di dimissioni del segretario regionale nell'ultima riunione l'immagine scaturita del PD Sardo non era certo quella di un partito coeso e in armonia tre aree con tre diverse proposte i soriani che rappresentano la minoranza l'area del segretario ovvero i rinziani e la corrente Cabras Fadda parcheggio multipiano di via Verona domani alle 11 un incontro pubblico nella sala polifunzionale dopo circa due anni e mezzo è ormai imminente alla riapertura del parcheggio multipiano di via Verona a Carbonia la struttura verrà finalmente restituita alla città con benefici sia per i cittadini che per le attività commerciali ha affermato il sindaco Paola Massida per parlare di questo tema domani mercoledì 23 maggio alle ore 15 nella sala polifunzionale si svolgerà un incontro pubblico sono 130 i parcheggi disponibili all'interno della struttura situata in una zona nevralgica di Carbonia nel cuore del centro cittadino con ingresso in via Verona e possibilità di uscita tramite attraversamento pedonale nella via Gramsci la riapertura del multipiano consentirà un agevole afflusso dei clienti verso le attività commerciali presenti nella zona ha affermato l'assessore ai lavori pubblici Gianluca Lai la banda musicale Vincenzo Bellini di Carbonia guidata dalla maestra Caterina Casula ha eseguito sabato sera al Teatro Centrale il concerto di primavera la serata articolata in due tempi ha visto nella prima parte un repertorio classico mentre nella seconda parte c'è stato spazio per brani più moderni originali per banda un teatro gremito con un pubblico che ha mostrato di gradire ampiamente il concerto di primavera Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.